Ancora un'immagine dall'alta carica erotica che riaffiora dai nuovi scavi a Pompei. Questa volta si tratta di un affresco ben conservato che rappresenta il mito di Leda e il Cigno, rinvenuto in un cubicolo di una casa a lungo via del Vesuvio. Siamo nello scavo della Reggio V, la porzione mai indagata della città vesuviana e al centro di un vasto intervento di ricerca che continua a regalare sorprese ormai ininterrotte da cinque mesi. La scena, piena di sensualità, rappresenta il congiungimento tra Giove, trasformatosi in Cigno, e Leda, moglie di Tindaro, re di Sparta. Dal doppio amplesso, prima con Giove e poi con Tindaro, nasceranno fuoriuscendo da Uova i gemelli Castore e Polluce e di Oscuri, Elena, futura moglie di Menelao, re di Sparta e causa della guerra di Troia, e Clitennestra, poi sposa e assassina di Agamennone, re di Argo e fratello di Menelao. A Pompei, l'episodio di Giove e Leda gode di una certa popolarità, poiché è attestato in varie domus con diverse iconografie.